Correvano gli anni 80, correvano gli anni dei mitici programmi televisivi come Drevin, Quelli della Notte o Novantesimo Minuto, gli anni dei mitici telefilm come Robinson, Arnold, A-Team, i Jefferson ed ancora gli anni dei cartoni animati indimenticabili, Lupengigi, La Trottola, Candy Candy, dei videogiochi come Space Inveders, Pac-Man, Wonder Boy, senza dimenticare i film diventati veri e propri evergreen, intramontabili e insuperabili. Come dimenticare infatti pellicole del calibro di Ghostbusters, Iguni, Serri, Ti presento Sally, Fuga da New York solo per citarne alcuni. Uno straordinario nostalgico salto nel passato per quanti e ne sono davvero tanti ricordano con un tuffo nel cuore i mitici anni 80. Un viaggio a ritroso nel tempo possibile grazie all'associazione culturale Settimo Piano Mezzo, promotrice di una straordinaria iniziativa 80's Invaders, rassegna di cult movies anni 80. Dal 20 febbraio fino al 13 marzo, ogni giovedì presso il cinema Politeama di Biceglie, la proiezione dei film che hanno fatto storia, che hanno segnato un'epoca. Ci siamo soffermati su pellicole molto differenti tra loro perché gli anni 80 sono un periodo particolarmente fertile per quanto riguarda ogni genere cinematografico. Il perché di questa rassegna è molto semplice. Abbiamo voluto ricreare un evento, un qualcosa che potesse permettere alle persone di riprovare quell'esperienza di collettività che è tipica del cinema. Non dobbiamo dimenticarci infatti che proprio la settima arte nasce con il senso di collettività al suo interno. Quindi penso che non ci sia cosa più bella del ritrovarsi in sala con tante persone che conoscono la tua stessa pellicola che tu hai amato e adorato nel corso degli anni, nella pellicola con cui sei cresciuto, è rivedere questo film con tantissimi appassionati. La rassegna 80's Invaders nasce con l'intento di far rivivere un'esperienza magica, un'occasione importante per chi quegli anni li ha vissuti ma anche per le nuove generazioni, figlie dell'home video. Riproponendo questi film oltretutto noi abbiamo creato un'occasione per le nuove generazioni, per godere di queste pellicole, di questo cinema che non si fa più. Molto spesso, soprattutto negli ultimi anni, le grandi case di produzione sono ricorse alla cosiddetta tecnica del remake per riproporre i vecchi cult del passato. E le grandi case di produzione sono solite dire che fanno un remake perché vogliono permettere alle nuove generazioni di conoscere dei vecchi cult movies del passato. Ecco, non è così. I cult movies si possono riportare in sala e le nuove generazioni possono conoscere direttamente quei film senza il remake. Un'iniziativa rivolta a tutti, a chi con quei film è cresciuto e non vede l'ora di tornare bambino, a chi invece li ha appena sfiorati dai ben consapevole comunque della differenza che c'è tra grande e piccolo schermo e perché infine non ha mai vissuto l'esperienza magica che è solo il buio di una sala cinematografica in grado di offrire.